Odissea sanitaria in Brasile per un giovane italiano che dopo tre mesi di ricovero a Rio de Janeiro è stato trasportato oggi nel reparto di terapia intensiva del Neuromed di Pozzilli dopo essere rientrato in Italia con un aereo di Stato. Raffaele De Simone, pizzaiolo 32enne di Casa Nuovo in provincia di Napoli, ma trasferitosi in Sud America per lavoro, nel mese di aprile era caduto da un muro alto circa 4 metri, riportando un danno alla colonna vertebrale. Ricoverato presso l'ospedale Gloria d'Or, ai familiari era stato chiesto un compenso per l'assistenza sanitaria prestata di circa 350 mila euro. Dopo una serie di vicissitudini legate alla difficoltà di reperire i fondi e di interagire con uno Stato straniero, con una diversa legislazione e anche grazie al contributo della regione Campania che ha coperto le spese dell'equip medica necessaria per il volo istituzionale, oggi Raffaele De Simone è atterrato a Ciampino intorno alle 11.20 per essere subito trasferito presso l'IRCS Neuromed, struttura d'eccellenza a livello nazionale e non solo, in particolare per quel che riguarda le patologie del campo neurologico. Immediatamente ricoverato presso il reparto di terapia intensiva della clinica di Pozzilli, l'equip medica specialistica ha messo in campo tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche necessarie per fornire al paziente la migliore assistenza.